muñeco burro muñeco burro muñeco burrissimo qualche banan che qualifico ora no no burrudo ci abbiamo memorizzato quattro e se mi toccò la quinta la banana mira quanta gente qualifica in questo modulo plattano no banana un tucan di mierda dalle Dale. Tengo, tengo, tengo la cola, la robé. Nah, mira, mira, el tucano está a 400 metros de mí y me la roba, boludo. Nah. Mira, le agarré, le agarré y no me dio la cola, le agarré y no me dio la cola. Uy, la robé, boludo, faltando 15 segundos. Qué buena onda. 10, 10, correte, 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 correte. Cinco. Grande, chaca, boludo. Ok. No. Ok. 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 c'è me cai un montone bro c'è me 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 non è giocca pensi che abbia gente arriva mia dale giocca vamo vamo giocca sono dei tu squad giocca tenes che felicitarmi envidioso grazie